cinturone bundeswehr fibbia in solido ottone ex dotazione germania ovest anni 80 90 robustissima cordura molto spessa molto solido aggancio metallico dello stesso materiale si aggancia con questa clip a quest'altra parte qua in questa maniera regolabile con una lama di coltello o anche a mano potreste togliere la fibbia farla scorrere e regolare così la misura alla giusta dimensione che vogliate ottenere distribuito in varie misure ogni misura a sua volta può essere regolata a diminuire o aumentare